Nuova vita per la piscina ex Enal. Ieri il Consiglio Comunale ha approvato la rinascita dopo ben 17 anni di chiusura. La delibera è passata con ampia maggioranza, dunque anche con l'apporto di parte delle opposizioni. Non è stata però una festa popolare, nessun grido di gioia per effetto delle solite incrostazioni stratificate negli anni e che narrano di passaggi di competenze e cambio del testimone tra società. Il fatto, sancito ieri sera dal Consiglio Comunale di Frosinone, però ha del clamoroso. Dopo ben 17 anni c'è una soluzione, finalmente percorribile, per rimettere in funzione la piscina Enal, proprio nel cuore della parte bassa della città. E per lunghi anni unico sfogo estivo davvero popolare per tanti frusinati, grandi e soprattutto piccini. La storia dell'abbandono, quella piscina ridotta attualmente ad un monumento al degrado urbano, è da scrivere all'albo delle vergogne storiche del capoluogo. Tra l'altro, con l'aggravio della presenza negli stabili adiacenti di alcuni uffici assessorili, cosicché quello sfacelo è stato sotto gli occhi di un buon numero di amministratori di questa città, senza che per anni alcuno si sia stracciato le vesti.